Francesco Fiordomo su tutti già al primo turno di voto. Le amministrative di Recanati consegnano alla città il secondo mandato di un sindaco che proprio perché votato alla grande dimostra quindi di aver meritato la riconferma. Adesso si dirà che molti recanatesi non sono andati a votare e ben si sa cosa succede in questi casi. Se ne avvantaggia la sinistra da sempre puntuale ad esercitare il suo diritto dovere di voto. Si dirà che molti sono rimasti a casa perché non invogliati da una candidatura forte da oppurre all'esponente del PD. Si dirà anche, e se ne parlerà a lungo, della maldestra operazione dell'opposizione di presentarsi al voto in due tronconi ben distinti e quindi molti potrebbero aver disertato le urne anche per questo. Si diranno tante altre cose che poi non servono proprio a niente visto l'esito del voto. Onore al merito e avanti si vada. Dopo aver notato la dignitosa presenza dei grillini e delle altre civiche anch'esse in gioco per dare il proprio contributo a questo sano esercizio di democrazia che sono le consultazioni elettorali dopo tutto questo, basta, ci si metta una pietra sopra e si volti pagina. Buon lavoro allora a Fiordomo per altri cinque anni con un'opposizione come questa lunga vita per il sindaco PD a Palazzo Comunale. L'opposizione intanto pensi ad una sua opportuna rifondazione. Grazie. Grazie.